Buongiorno, ben ritrovati a un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il passaggio del Friuli-Venezia-Giulia in zona gialla è solamente rinviato di una settimana. E questo quanto emerge dai dati di oggi anticipati a Telefriuli dal vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. Con questi numeri dice diventeremo zona gialla a partire dal lunedì 29 novembre. Intanto la regione prepara il piano terze dosi anticipando la partenza delle somministrazioni della dose Boster per i quarantenni a lunedì prossimo, 22 novembre. Vicepresidente, la zona gialla è più vicina o più lontana? Di fatto la zona gialla con i numeri di ieri e vedrete con i numeri di oggi c'è già. Solo che probabilmente scatterà la prossima settimana. Ormai il calcolo viene fatto sui dati di ieri. Ieri siamo sotto di tre. I numeri non sono un'opinione. Questa vicenda non può pensare di penalizzare le persone vaccinate rispetto alle non vaccinate. Questo è un tema di serietà che io credo debba essere affrontato. Il problema secondo me è che c'è un po' di timidezza nell'adesione alla terza dose. Possiamo cominciare a vaccinare gli over 40. Questa mattina sono già partite le disposizioni per le aziende sanitarie e da lunedì 22 sarà possibile prenotarsi nella fascia over 40 come è stato stabilito dalla gestione commissariale condividendo ieri tra il governo e le regioni questa anticipazione. La macchina sarà a regime nei termini che sono stati stabiliti anticipando di una settimana questa cosa. È evidente che adesso il problema sono le adesioni. Noi scontiamo un ritardo nelle adesioni che speriamo possa vedere un'accelerazione. Il Friuli Venezia Giulia è la regione con il più alto tasso di occupazione degli ospedali in Italia e quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità che registra come le terapie intensive friulane siano al 13,1% e le aree mediche al 14,8% appena sotto la soglia limite. Prima per ospedalizzazioni, seconda per incidenza. Il Friuli Venezia Giulia si conferma insieme alla provincia di Bolzano una delle zone in cui la quarta ondata di Covid è più pesante. È quanto certifica il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità che segnala la quarta settimana consecutiva di peggioramento dei dati nazionali che ci fa sempre più sprofondare all'interno di questa nuova ondata pandemica. In particolare il Friuli Venezia Giulia è la peggior regione d'Italia per tasso di occupazione dei posti letto in ospedale sia terapie intensive, 13,1% già da settimane sopra la soglia limite del 10% che le aree mediche ad un passo dal primo gradino per la zona gialla al 14,8%. Ad aver sforato le soglie solamente della terapia intensive sono insieme la nostra regione anche la provincia autonoma di Bolzano, Calabria e Marche. Per quanto riguarda l'incidenza invece Trieste si conferma tristemente prima in Italia con ormai 723 casi ogni 100.000 abitanti. Gorizia terza a 371, più indietro Pordenone 153 e Udine 151. A livello regionale il Friuli Venezia Giulia è seconda con una media di 289 dietro solo a Bolzano ferma 406. Quello che più preoccupa l'Istituto Superiore di Sanità è l'aumento di casi non associati a catene di trasmissione indice evidente delle crescenti difficoltà nel tracciamento dei contatti con 15.000 casi rispetto agli 11.000 di settimana scorsa. Il Friuli Venezia Giulia, chiude il monitoraggio, è considerato ad alta probabilità di progressione a rischio alto. In altre parole, le cose possono ancora peggiorare. E intanto in Austria da lunedì scatterà il lockdown generale. Durerà 20 giorni e poi proseguirà per i non vaccinati. Ad annunciarlo è stato poco fa lo stesso governo austriaco. Il governatore dell'Antirolo, Wenter Platter, invece ha annunciato che dal 1 febbraio scatterà l'obbligo vaccinale solo. Così ha detto usciremo dal circolo vizioso. Nonostante mesi di impegno, ha aggiunto il cancelliere Alexander Schallenberg, non siamo riusciti a convincere abbastanza gente a farsi vaccinare. Ci sono troppe forze politiche che ci vanno contro, ha aggiunto parlando di un attentato al sistema sanitario. Arriva fino in Friuli l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Genova su sudalizi No Vax, No Green Pass attivi su canali Telegram. In provincia di Udina la polizia ha perquisito oggi una donna di 56 anni, una delle 29 persone sottoposte a controllo per ordine della DDA genovese che nell'inchiesta ha ipotizzato reati che vanno dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta, all'istigazione, all'interruzione di pubblico servizio e all'associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti. Secondo le ipotesi investigative, le persone perquisite avevano creato un sistema formato da cerchi concentrici con crescenti livelli di sicurezza e divisione di ruoli finalizzato a far sfociare il dissenso verso l'attuale piano di contenimento della pandemia in forme variabili di azioni delittuose. È stata presentata questa mattina a Trieste il rapporto della Banca d'Italia sull'andamento dell'economia regionale. Sei mesi rosei ma, dice l'istituto di vigilanza, non manca qualche nube all'orizzonte. Direttore, com'è la situazione dell'economia del Friuli Venezia Giulia nella fotografia della Banca d'Italia? La fotografia è una fotografia molto positiva per quanto riguarda i primi sei mesi dell'anno, però all'orizzonte ci sono dei fattori di rischio che preoccupano complessivamente gli imprenditori che noi abbiamo intervistato durante un sondaggio recente fatto durante il mese di ottobre. I primi sei mesi sono stati molto positivi dal punto di vista della crescita del prodotto. L'indicatore che noi elaboriamo si chiama ITER, che tende appunto a riprodurre con una frequenza molto più elevata rispetto alle statistiche ufficiali, riproduce l'andamento del PIL, è cresciuto del 12% nei primi sei mesi dell'anno. La produzione industriale è cresciuta di quasi il 25% e le esportazioni del 28%. In questi due ultimi casi siamo già a dei livelli che sono superiori a quelli pre-pandemia. Un uomo di 83 anni di Gorizia è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Savogna di Sonzo sulla statale 55 sul Vallone, nello stesso rettilineo dove qualche settimana fa in un altro incidente stradale erano morte e carbonizzate due persone. L'uomo era alla guida di un'auto che per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri è sbandata ed è finita a bordo della strada. Sul posto è entrato l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campo Formi da un'ambulanza inviata dalla centrale Sores e Vigelfuoco di Gorizia. Ancora rintracci di migranti sulla rotta balcanica. Ieri sera ad Aquilinia, a pochi chilometri da Mugia, sono stati trovati 102 immigrati che camminavano a piccoli gruppi nella campagna. Sono stati portati a Ferneti per l'identificazione. Nero in tracce anche a Udine dove sono stati portati e bloccati tre immigrati minorenni. Sono stati accompagnati in strutture di accoglienza per under 18, avviati a triage e posti in quarantena fiduciaria. Salvata la vita ad un giovane pronto a compiere un gesto estremo a Pordenone. Il delicato intervento è iniziato l'evento di ieri quando al NU112 è giunta la segnalazione di un uomo pronto a togliersi la vita gettandosi dal sovrappasso pedonale che scavalca a linea ferroviaria di via della Ferriera. Sul posto sono immediatamente recati i vigili fuoco per scongiurare il peggio. I pompieri hanno chiesto l'interruzione del traffico ferroviario e il distacco della linea elettrica. Successivamente, mentre un vigile cercava di instaurare una comunicazione con il giovane, il resto della squadra predisponeva il materasso ad aria per cercare di attutire un'eventuale caduta. L'intervento è stato molto impegnativo anche dal punto di vista psicologico, in particolar modo per i due vigili fuoco che si sono alternati per circa un'ora e mezza a cercare di instaurare un rapporto empatico con il ragazzo, raccontando esperienze di vita personali e spornandolo a immaginare un futuro migliore, cercando di persuaderlo a credere nella possibilità di costruirselo giorno dopo giorno. Sarà sabato, 27 novembre, la manifestazione regionale di CGL, CISRE e UIL sulle riforme delle pensioni. del fisco e del lavoro. Intanto, a Udine, Roberto Ghiselli, segretario nazionale della CGL, ha fatto il punto sullo stato del confronto tra le sigle sindacali e il governo. Finalmente il governo ha dato la sua disponibilità a lavorare per un confronto che deve portare a una riforma delle pensioni e alla riforma fiscale, con un calendario serrato che partirà la prossima settimana con dei tavoli tecnici. È un'apertura importante, però naturalmente noi abbiamo bisogno di risposte poi concrete del merito. Quindi il confronto va sostenuto con l'iniziativa, con l'impegno e con la mobilitazione, quindi non mogliamo perché qualunque risultato sarà frutto della nostra lotta. Per i giovani noi chiediamo pensione di garanzia, anche perché lavoro precario e salari bassi di fatto minano non solo il presente, ma anche il futuro di un sistema pensionistico per i giovani. Si pensi che con questo regime qua, il 60%, non arriverebbe alla pensione minima. Sabato 27 novembre la mattina, assieme a Cisa Will, saremo in piazza Grande a Palmanova per una manifestazione sui temi fisco, lavoro e previdenza. Anche a Trieste e a Udine decine di studenti di licei e istituti superiori sono scesi in piazza per chiedere al governo più investimenti da dedicare al mondo della scuola. Oltre a nuovi edifici serve, ci hanno spiegato, riaggiornare completamente la didattica. Siamo studenti e studentesi delle scuole superiori e siamo qua oggi per protestare per il definanziamento decennale della scuola italiana. Una cinquantina di studenti del Movimento Studentesco per il Futuro si è ritrovata questa mattina in piazza a primo maggio a Udine per chiedere una scuola migliore, più sicura, ecologica, accessibile e non sovraffollata. In 50 città italiane gli studenti si sono radunati al motto di siamo il futuro che si ribella. Noi ci sentiamo ignorati dalle istituzioni e vogliamo una scuola nuova, vogliamo una rivoluzione radicale delle scuole superiori, delle università e delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La richiesta esposta su striscioni, manifesti e urlata al megafono è la necessità di una riforma radicale della scuola pubblica che prevede una legge nazionale sul diritto allo studio, la costruzione di edifici più efficienti è una didattica riformata che persegue il benessere psicologico degli alunni. Il 56% degli edifici scolastici in regione sono stati costruiti precedentemente al 1976, un dato così, per rendere l'idea. Trilli è tornata libera nel suo ambiente naturale. Trilli, la vedete nelle immagini, è il primo sciacallo cucciolo recuperato in Italia e il terzo esemplare così giovane in Europa. Gli altri due erano stati rilasciati in Grecia. L'animale era ricoverato al cras di Terranova di San Canzian di Sonzo. Al momento del salvataggio sul carso goriziano, Trilli pesava 5 kg e aveva una sintomatologia nervosa causata probabilmente da un investimento stradale. È stata curata e poi trasferita nelle strutture dell'Università degli Studi di Udine e del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Qui sono stati svolti studi sulla sua dieta e il suo comportamento. Dopo tre mesi e un peso di 8 kg, la piccola sciacalla è stata liberata dal corpo forestale regionale, sempre sul carso goriziano, dopo essere stata munita di un radiocollare per lo studio sul suo comportamento in natura. Ormai è di casa a Erto uno splendido esemplare di volpe che ogni sera appena cala il buio percorre veloce le strette vie di pietra della parte vecchia del paese in cerca di cibo, spesso delle crocchette per i gatti lasciate all'esterno delle abitazioni. La ripresa è in questi giorni uno degli abitanti della Erto vecchia, Bortolo, Filippine. In piena forma la volpe sfoggia già la sua livrea invernale. Dopo il successo dei grandi appuntamenti friulani del 2019 con ben 90.000 persone, il Jova Beach Party torna a Lignano Sabbiadoro per due imperdibili feste in riva al mare che scalderanno la spiaggia a Bell'Italia il 2 e 3 luglio 2022. Ed ecco la soddisfazione dell'assessore regionale al turismo, Sergio Bini. Sì, oggi verrà presentato un evento molto importante, un evento che ha già visto la nostra piazza, la nostra regione, Lignano Sabbiadoro protagonista nell'anno 2019 con una Jova Beach Party riuscitissimo, con una presenza di, mi pare, 75.000 rotte persone. Quindi, insomma, un Lignano Sabbiadoro che si sta dimostrando per l'ennesima volta luogo di eventi, luogo di spettacoli, luogo ambito dai turisti, dai visitatori, non solo del nostro paese, ma anche d'oltre confine. Oltre a questo evento, poi mi è stato presentato anche un possibile palinsesto che non posso ancora svelare per l'estate 2022. Devo dire un palinsesto molto, molto ricco di nomi molto interessanti. Quindi, Lignano Sabbiadoro, la regione Prima Venezia Giulia, ancora una volta al top per quanto riguarda eventi, per quanto riguarda spettacoli, per quanto riguarda emozioni. Lo sport. Un altro membro dello staff dell'App World Wild West risultato positivo al giro di tamponi concordato insieme all'azienda sanitaria, dopo che ben 5 casi di cui due giocatori erano emersi nelle scorse settimane. Per questo ulteriore caso, l'azienda sanitaria universitaria a Friuli Centrale ha disposto l'isolamento del gruppo squadra per una settimana, con ulteriori tamponi per verificare l'eventuale diffondersi del contagio. Dei 5 casi già emersi, solo uno era sintomatico, quello di Capitano Antonuti. Ora dovranno essere rinviate le gare contro Turino e Cantù previste rispettivamente per questo e per il prossimo weekend. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie per la visione!